Gesù venne loro incontro e disse salute a voi. Di fronte alla paura paralizzante dei capi giudei che per proteggersi mettono in moto i soliti meccanismi del potere, stanno le donne salutate dal risorto non con un semplice salute a voi, ma con un più pregnante rallegratevi. La Pasqua ci sfida a mostrare il lato gioioso della fede, ci sfida a un atto di coraggio, a credere e a camminare. Veda il mondo nei tuoi gesti la fede e sul tuo volto la gioia del risorto. Grazie a tutti.